Nuovo ricovero per Shimon Peres. A distanza di pochi giorni dalle sue dimissioni dall'ospedale per un leggero attacco di cuore, l'ex presidente israeliano, che ha 92 anni, è dovuto di nuovo ricorrere all'aiuto dei medici. Domenica sera aveva accusato gli stessi dolori al petto che lo costrinsero al ricovero il 14 gennaio scorso.